Unicredit è da sempre vicina ai territori in cui opera e questo vale ovviamente a maggior ragione in Sicilia dove siamo la principale banca, la banca del territorio. Significa dare, fornire un concreto sostegno alle necessità delle comunità che operano e vivono sul territorio. Questa donazione è stata possibile grazie ai fondi della carta etica. La carta etica è una carta di credito, una normale carta di credito con una particolarità. I due per mille di tutte le spese effettuate dai titolari va a rimpinguare un fondo che poi viene utilizzato dalla banca per queste iniziative di carattere sociale. Per darvi un numero, negli ultimi anni abbiamo finanziato oltre i 170 Ollus per 1.800.000 Euro complessivi. Quindi un forte sostegno nei confronti delle comunità e del territorio.